Terza giornata del campionato giovanissimi provinciali Under 14, girone D allo stadio comunale di Santa Teresa di Riva si affrontano Agamessina e Milazzo. I padroni di casa si schierano con Urso, Castrovinci, Arigo, Centorrino, Sacco, Zirilli, Alessandra, Acacia, Di Bella, Frisenda e Galdino. In panchina Isoli, Allone e Busa. Risponde il Milazzo con Giunta in porta, Bonfiglio, Citti, Pianese, Cernuto, Coppolino, Sibilia, Francesco, Sibilia, Diego, Imbruglia, Amato e Badolato. In panchina Ullo, Brigandi, Italiano, Prizzi, Maisano, Spoto e Basile. Partono subito forte qui i padroni di casa con Galdino che non ci pensa due volte e verticalizza in profondità a cercare Frisenda che prova in trenale di rigore. ma viene steso da Simone Citti. Fallo da ultimo uomo, si avvicina il direttore di gara che non ha dubbi, cartellino rosso per Citti. A pochi istanti dal fischio di inizio rimane in 10 il Milazzo per questa trattenuta evidente di Citti. A battere il calcio di punizione si presenta Caccia che calcia col destro, pallone fuori. Battuto corto questo calcio d'angolo dalla Agamessina. Si fa vedere Arrigo che carica il destro da fuori e arriva il gol della Agamessina. Gol di Arrigo su deviazione di Cernuto che spiazza il portiere giunta. Non può nulla qui l'estremo difensore del Milazzo dopo la deviazione. Ancora la Agamessina qui con Di Bella che riconquista questo pallone. Acacia avanza, cerca qui sul settore sinistro, Galdino pallone qui al centro per Di Bella viene steso da Cernuto. Calcio di rigore, fallonetto di Cernuto. A battere il calcio di rigore. Si presenta Zirilli che parte col destro e spiazza giunta. Glaciale qui Giovanni Zirilli che firma il raddoppio. Spiazzato l'estremo difensore giunta. Ancora la Agamessina con Castro Vinci che cerca qui Galdino. Servito Cacia che prova col destro da fuori. Risponde presente giunta in corner. Ancora i padroni di casa con Castro Vinci. Servito in profondità Centorrino che ha spazio. Punta Brigandì. Mette questo pallone in mezzo. Dove c'è Alessandra che prova il tocco di punta. Pallone che finisce fuori. Scambiano qui sul settore di destra Galdino e Frisenda. Pallone messo in mezzo da Frisenda. Sacco può anche calciare. Deviazione qui di Coppolino. Pallone che finisce dalle parti di Galdino. Galdino esterno destro. Preciso e potente. Agamessina 3. Milazzo 0. Termina con questo bellissimo gol di Galdino. Il primo tempo. Riparte la seconda frazione con l'Agamessina che continua ad attaccare. Qui con Allone che cerca spazio sul settore di sinistra. Si appoggia ancora centralmente dove c'è Sacco. Che calcia col destro. Giunta riesce ad intervenire. Palo poi Di Bella prova a metterla dentro. Ma c'è calcio di punizione per il Milazzo. Fallo qui di Di Bella sul portiere Giunta. Prova a rispondere qui il Milazzo con Imbruglia che cerca spazio sul settore di sinistra. Punta Castro Vinci. Lo supera qui in Imbruglia. Apre il compasso qui con la destro. Imbruglia la riapre. Agamessina 3. Milazzo 1. Un gol bellissimo qui di Imbruglia che riapre la partita. Ancora Agamessina qui con Acacia. Prova il destro. Arriva a rigore di Bella. Qui fallo netto di Cernuto. E dunque un altro calcio di rigore per l'Agamessina. Fallo di Cernuto. Dal dischetto si presenta Acacia. Che calcia col destro. Portiere da una parte. Palla dall'altra. Agamessina 4. Milazzo 1. Esulta qui alla Rafa Leao. Acacia. Ancora Agamessina. Scambio qui tra Galdino. Che mette questo pallone in mezzo. A cercare Di Bella. Prova a spazzare Basile. La palla finisce a sacco. Che carica il destro. E la mette dentro. Agamessina 5. Milazzo 1. Ha preso la mira qui dentro l'area di rigore. Sacco. E ha segnato il quinto gol. Ancora Agamessina. Arigo. Cerca Di Bella. Prova ad insistere Di Bella sulla corsia mancina. Qui viene steso. Non c'è fallo secondo l'arbitro. Allora porta palla a Galdino. Che entra in l'area di rigore. La mette in mezzo per Prizzi. E arriva il gol qui di Frisenda. Il numero 10. Dell'Agamessina. Segna il 6 a 1. Ed esulta invece alla Jude Bellingham. Dopo Acacia con Leao. Ancora qui l'Agamessina che prova a ripartire. Acacia. Allone. Bellissimo questo passaggio per Galdino. Che si presenta davanti a Giunta. Ci prova qui Galdino. E mette il pallone dentro. Spiazzato. Ancora una volta giunta. Ottima azione dell'Agamessina. Con Acacia. Che serve Allone. Poi Allone in profondità a Galdino. Ancora Allone. Prova a sfondare sul out di destra. Prova a intervenire Cernuto. Il pallone che passa di bella. Galdino poi arriva. E segna l'ottavo gol. Agamessina 8. Milazzo 1. Scatenato Galdino. Ancora qui Allone. Intercetta questo pallone. Cercato di bella. Si fa vedere sull'out Mancino. Qui Galdino. Galdino. In una di rigore. Galdino. Ottima qui la parata di Giunta in corner. Sul tentativo di cross di Acacia. Prova qui Frisena. Coppolino spazza. E arriva questo gol meraviglioso di Acacia. Di esterno destro. Veramente una rete di pregevole fattura qui. Di esterno destro. Prova a rispondere il Milazzo. Qui con Imbruglia. Che prova a sfondare sull'out di sinistra. Lo contiene Zirilli. Fallonetto di Imbruglia su Castro Vinci. E arriva il doppio giallo per Imbruglia. In 9 il Milazzo. La camessina insiste qui sul settore di sinistra. Con Di Bella che mette questo pallone per Allone. Pallone che finisce qui tra i piedi di Sacco. Che prova il destro. Traversa. E poi spazza Coppolino. Padroni di casa che inansistono. Sacco cerca in profondità Galdino. Pallone che finisce dalle parti di Citti. Mesto il pallone in mezzo. E Frisenda. Firma il 10 a 1. Agamessina 10. Milazzo 1. Finisce con questo risultato. La terza giornata del campionato giovanissimi provinciale. Under 14. Vittoria netta del Agamessina sul Milazzo. Che termina la partita in 9 per le espulsioni di Citti. E Imbruglia nel secondo tempo. Vittoria importante per l'Agamessina. Che trova oltre a delle bellissime reti una prestazione da incorniciare. Che trova oltre a delle bellissime reti.